Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Silvio Berlusconi ha commentato la sfida tra Monza e Torino, che ha visto il suo club uscire sconfitto per 1-2. Non l'esordio sperato dal presidente, che resta però fiducioso per il futuro, ci metteremo un po' di tempo ad abituarci a questi livelli, abbiamo cercato di rinforzare la squadra. Qualcosa di buono si è visto, speriamo di non sfigurare e non tornare in B subito. Questo è il vero obiettivo ha dichiarato. Mio ritorno in Serie A? No, non è un ritorno, è la prima volta che ci andiamo. In 110 anni il Mondia non è mai stato in Serie A. Poi, Berlusconi ha rilasciato anche qualche dichiarazione sul mercato, abbiamo già fatto 13 acquisti, e io san quello che paga. Ride, NDR. Bastano, non si può più fare altro. Un colpo c'era, ma è sparito. Sfumato? No no, di più a concluso.Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.